Questa sia la sede assolutamente in cui è necessario dare visibilità a una battaglia che i lavoratori e le organizzazioni stanno facendo per il futuro dello stabilimento. Voglio rappresentare e ribadire che come amministrazione siamo assolutamente al vostro fianco, abbiamo cercato di essere presenti, come possiamo fare come amministrazioni locali, abbiamo cercato di esserci sempre, ribadiamo anche la nostra assoluta vicinanza per supportare la battaglia che i lavoratori stanno facendo e vi dico anche di ovviamente tenere presente la nostra disponibilità anche per tutte le iniziative future perché noi vorremmo, in questo senso penso di interpretare veramente la volontà di tutti anche al di là delle revisioni politiche, vorremmo essere presenti a vostro supporto anche a dare visibilità e maggiore cittadinanza possibile nella nostra comunità a quelle che sono le istanze che stanno andando avanti, che state portando avanti in questi giorni. Quindi io vi ringrazio, lascerei la parola direttamente ai rappresentanti che possano raccontare la situazione che sta vivendo lo stabilimento in questo momento se per la Presidente va bene.